I paesi del Sud America sugli scudi. Non ci sono infatti solo i mondiali di calcio a dare lustro all'ex meta dei conquistadores. Adesso le buone notizie arrivano anche dall'economia. Stando infatti all'ultima classifica sul Global Retail Development Index, stilata da A.T. Kearney, i paesi sudamericani sarebbero i più appetibili per l'espansione del commercio al dettaglio. Nello specifico, l'indice tiene conto di diversi parametri, ormai consolidati negli anni. Si va dal rischio paese e quindi la stabilità politica all'attività del mercato, dalla saturazione del mercato stesso sino al fattore tempo. Tutto questo per stabilire quali siano le migliori mete per gli investimenti dei colossi della grande distribuzione, ma anche per le società minori o i negozi monomarca come quelli del lusso o della moda. Al primo posto di questa speciale classifica troviamo il Cile, probabilmente la punta di diamante del continente, che, grazie ad una consolidata stabilità economica, ad una buona crescita e ad un'ottima propensione al commercio estero, conquista la palma di paese più attraente per il commercio al dettaglio. Piazza d'onore per la Cina, che però inizia a perdere in termini di competitività, mentre la medaglia di bronzo va al piccolo Uruguay. Spiccano anche le valutazioni di Brasile, Quinto, Peru, Undicesimo e Colombia, Ventunesima. La riscossa del continente latino sembrerebbe cominciata, aspettando tempi migliori per colossi quali Argentina e Venezuela, che attualmente non navigano certo in buone acque e che si augurano che le positive performance economiche e che dei paesi limitrofi riescano a trainarli fuori dalle sabbie mobili che li attanagliano.